Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, sta piovendo in A1 tra B1 variante Firenze Nord e in Fipili tra La Strassigna ed Empoli Est. Per la mobilità in A12 coda per lavori tra Massa e Versilia verso Livorno e tra Pisa Centro e B12 raccorda 11 nella carreggiata verso Genova. In Fipili rallentamenti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze segnaliamo disagi alla circolazione in via guardavia per scavi urgenti. E prima di salutarci per il traffico ferroviario permangono forti ritardi in linea per il guasto adesso risolto agli impianti di circolazione tra Pistoia e Serravalle Pistoiese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!